14. Disciplina e controllo, disse il soldato Ombra, con una voce che sembrava lo schiocco di una cintura sulle gambe di un bambino. È questo che forma un uomo. Ricorda, ricorda. Il colonnello James Macklin si fece piccolo nel pozzo fangoso. C'era solo una fessura di luce, a sei metri sopra di lui, tra il suolo e il bordo del coperchio di metallo ondulato che copriva il pozzo. Era sufficiente per far entrare le mosche, e queste gli ronzavano in cerchio intorno alla faccia, sfrecciando verso le pile di l'erciume che lo circondavano. Non ricordava da quanto tempo si trovasse laggiù. Calcolò che i Charlie venivano una volta al giorno, e se questo era vero, si trovava nel pozzo da 39 giorni. Ma forse venivano due volte al giorno, quindi i suoi calcoli potevano essere sbagliati. Forse saltavano un giorno o due. Forse venivano tre volte in un giorno e poi saltavano i due giorni successivi. Forse disciplina e controllo. Jimbo. Il soldato Ombra sedeva a gambe incrociate contro una parete del pozzo, a circa un metro e mezzo di distanza. Indossava un uniforme mimetica, e aveva della pittura mimetica verde scuro e nera sul volto giallastro e galleggiante. «Date un contegno, soldato!» «Sì», disse Meklin. «Un contegno». Sollevò una mano ossuta e scacciò le mosche. E poi iniziarono i colpi, e Meklin gemette e si stringse contro la parete. Di sopra c'erano i Vietcong che colpivano il metallo con canne di bambù e manganelli. Il suono riecheggiava nel pozzo, raddoppiato e triplicato, fino a quando Meklin non si portò le mani alle orecchie. Il martellare continuò sempre più forte, e Meklin sentì un urlo in procinto di staccarsi dalla sua gola. «No!» lo ammonì il soldato Ombra, con gli occhi come crateri sulla faccia della luna. «Non lasciare che ti sentano gridare!» Meklin raccolse una manciata di fango e se la ficcò in bocca. Il soldato Ombra aveva ragione. Aveva sempre ragione. I colpi cessarono, e il coperchio di metallo fu spostato di lato. Una luce caliginosa infilzò gli occhi di Meklin. Poteva vederli lassù, mentre si sporgevano sopra al pozzo e ghignavano. «Nel Macrin!» lo chiamò uno di essi. «Hai fame nel Macrin!» Con la bocca piena di fango e l'erciume, Meklin annui e si sedette come un cane che lemosinava degli scarti. «Attento!» sussurrò il soldato Ombra. «Attento!» «Hai fame nel Macrin!» «Per favore!» disse Meklin con il fango che gli scendeva dalla bocca. Alzò le braccia emacciate verso la luce. «Prendi nel Macrin!» Qualcosa cadde nel fango a poca distanza da lui, vicino al cadavere in putrefazione di un soldato di fanteria di nome Ragsdale. Meklin striscò sul corpo e raccolse l'oggetto. Era un tortino di riso unto e fritto. Iniziò a masticarlo avido, con lacrime di gioia che gli uscivano dagli occhi. I Vietcong sopra di lui stavano ridendo. Meklin striscò sui resti di un capitano dell'aviazione che gli altri avevano conosciuto come Mississippi a causa del suo accento pesante. Adesso Mississippi era un mucchio di stracci e ossa. Nell'angolo più lontano c'era un terzo cadavere, un altro soldato di fanteria, un ragazzo dell'Oklahoma di nome McGee, che stava lentamente marcendo nel fango. Meklin si accovacciò vicino a McGee e masticò il riso, quasi singhiozzando di piacere. «Ehi, Nell McRing, sei tutto sporco! Tempo del bagno!» Meklin gemette e trasalì, incassando la testa tra le braccia perché sapeva cosa stava per arrivare. Uno dei Vietcong versò un secchio di escrementi umani nel pozzo e la poltiglia cadde dritta su Meklin, scorrendogli sulla schiena, sulle spalle e sulla testa. I Vietcong ulularono per le risate, ma Meklin si concentrò sul tortino di riso. Un po' di quella schifezza vi era schizzata sopra e lui si fermò per ripulirla sugli stracci del suo giubbotto da aviatore. «Ecco!» esclamò il Vietcong che aveva svuotato il secchio. «Adesso sei ragazzo pulito!» Le mosche stavano impazzando intorno alla testa di Meklin. Pensò che quello di quel giorno era un pasto buono. Lo avrebbe aiutato a vivere un po' più a lungo e mentre lo masticava il soldato Ombra disse «Esatto, Jimbo. Mangialo tutto fino all'ultima briciola». «Resta pulito ora!» disse il Vietcong e il coperchio di metallo fu tirato di nuovo al suo posto, chiudendo fuori la luce. «Disciplina e controllo». Il soldato Ombra si era avvicinato. «È questo che forma un uomo?» «Sì, signore», rispose Meklin. E il soldato Ombra lo guardò con occhi che bruciavano come napalm nell'oscurità. «Colonnello!» Una voce lontana lo stava chiamando. Era difficile concentrarsi su quella voce perché il dolore si stava diffondendo nelle sue ossa. Qualcosa di pesante giaceva su di lui, spezzandogli quasi la schiena. «Un sacco di patate», pensò. «No, no, è più pesante di quello». «Colonnello Meklin!» insistette la voce. «Vattene», desiderò Meklin. «Per favore, vattene». Tentò di sollevare la mano destra per scacciare le mosche dalla faccia, ma quando lo fece una scossa di feroce agonia, gli attraversò il braccio e la spalla, e lui gemette quando continuò nella spina dorsale. «Colonnello! Sono Ted Warner! Riesci a sentirmi?» «Warner? Teddy Bear Warner?» «Sì», disse Meklin. Aveva fitte di dolore nella gabbia toracica. Sapeva di non aver parlato abbastanza forte, quindi riprovò. «Sì! Posso sentirti! Grazie a Dio! Ho una torcia, colonnello!» Un alone di luce colpì le palpebre di Meklin, e lui permise loro di aprirsi. Il raggio della torcia scendeva da tre metri di altezza sopra la testa di Meklin. La polvere di rocce e il fumo erano ancora densi, ma Meklin riuscì a vedere che si trovava in fondo a un pozzo. Voltando lentamente la testa, con un dolore che quasi gli fece perdere di nuovo i sensi, vide che l'apertura era astento sufficiente perché un uomo ci passasse attraverso strisciando. Non riusciva a capire come fosse stato compresso in uno spazio del genere. Le sue gambe erano raccolte strettamente sotto di lui, la schiena era piegata dal peso non di un sacco di patate, ma di un corpo umano. Un morto. Ma Meklin non riusciva a vedere di chi si trattasse. Incastrato nel pozzo sopra di lui, c'era un intrico di cavi e tubi spezzati. Tentò di spingere contro il peso tremendo per ottenere almeno un po' di spazio per le gambe, ma un dolore lancinante si diffuse di nuovo dalla sua mano destra. Ruotò la testa all'indietro, nell'altra direzione, e con l'aiuto della luce dall'alto, vide quello che considerava un problema grave. La sua mano destra era sparita in una crepa. La crepa era larga forse tre centimetri e rivoli di sangue scintillavano sulla roccia. La mia mano, pensò stordito. Gli tornò in mente l'immagine delle dita di Becker che esplodono. Si rese conto che la sua mano doveva essersi infilata in una fessura quando era caduto laggiù e poi la roccia si era spostata di nuovo. Non sentiva nulla oltre le strazianti manette che aveva al polso. La sua mano e le dita erano carne morta. Devo diventare un mancino, pensò, e poi la consapevolezza lo colpì con forza stordente. Il mio dito del grilletto è sparito. C'è il caporale Prados qui con me, colonnello, gridò Warner. Ha una gamba rotta, ma è cosciente. Gli altri sono messi peggio. O morti. Tu come stai? Chiese Macklin. Ho la schiena schiacciata. La voce di Warner suonava come se l'uomo avesse problemi a respirare. Mi sento come se mi potessi spaccare in due se le mie palle non mi stessero tenendo insieme. Sputo sangue anche. È rimasto qualcuno per avere un rapporto d'anni? Le comunicazioni interne sono morte. Dalle bocche di ventilazione esce fumo. Posso sentire gente che urla da qualche parte e quindi qualcuno di loro ce l'ha fatta. Gesù, colonnello, deve essersi mossa l'intera montagna. Devo uscire di qui, disse Macklin. Ho il braccio bloccato, Teddy. Pensare al disastro maciullato della sua mano, fece tornare il dolore e dovette stringere i denti e sopportare che passasse. Puoi aiutarmi a uscire? Come? Non posso raggiungerla e se il suo braccio è bloccato? La mia mano è schiacciata, gli disse Macklin. La sua voce era calma e si sentì come se stesse sognando. Tutto galleggiava ed era irreale. Trovami un coltello. Il coltello più affilato che riesce a trovare. Cosa? Un coltello? Perché? Macklin fece un ghigno selvaggio. Tu fallo! Poi accendi un fuoco là sopra e bruciami un pezzo di legno. Era stranamente dissociato da quello che stava dicendo. Come se quello che doveva essere fatto riguardasse la carne di un altro uomo. Il legno deve essere rosso bollente, Teddy. Abbastanza caldo per cauterizzare un moncherino. Un moncherino? Si fermò. Adesso iniziava a capire il quadro. Forse possiamo tirarla fuori in qualche altro... Non c'è altro modo. Per uscire da quel pozzo avrebbe dovuto lasciare indietro la sua mano. Chiamala una libra di carne, pensò. Mi hai capito? Sì, signore, rispose Warner, sempre obbediente. Macklin distolse il volto dalla luce. Warner si allontanò strisciando dal bordo della buca che si era aperta nel pavimento della sala di controllo. L'intera stanza era inclinata a un angolo di trenta gradi, per cui stava strisciando leggermente verso il basso, superando equipaggiamento rotto, rocce cadute e corpi. Il raggio della torcia colpì il caporale Prados, seduto contro un muro crepato e inclinato. Il volto dell'uomo era sfigurato e un osso spuntava dalla sua coscia, scintillante e umido. Warner continuò in quello che restava del corridoio. Si erano aperti dei fori enormi nel soffitto e nelle pareti, e l'acqua cadeva dall'alto sul disastro di rocce e tubi. Poteva ancora sentire gridare in lontananza. Avrebbe dovuto trovare qualcuno perché lo aiutasse a liberare il colonnello Macklin, perché senza la sua guida erano tutti finiti, e non c'era alcun modo in cui la sua schiena ferita gli avrebbe permesso di strisciare nella buca in cui il colonnello era intrappolato. No, avrebbe dovuto trovare qualcun altro. Qualcuno abbastanza piccolo da riuscire a entrare, ma abbastanza duro da portare a termine il lavoro. Dio solo sapeva cosa avrebbe trovato quando sarebbe arrivato a livello 1. Il colonnello contava su di lui, e lui non lo avrebbe abbandonato. Si fece strada sulle macerie, lentamente e dolorosamente, strisciando in direzione delle urla.